Ricerche a tappeto in provincia di Arezzo nella zona che va da Palazzo del Pero alle ville di Monterchi di un uomo, una 53enne tedesco scomparso nel nulla. Dell'uomo non si hanno più notizie da due settimane. Originario della Germania è residente nella zona di Palazzo del Pero. A lanciare l'allarme giovedì 16 febbraio alle forze dell'ordine è stato un amico, un connazionale, che ha riferito che il 53enne da qualche tempo non si era più fatto vivo. Venerdì mattina sono così scattate le ricerche partite dall'abitazione dello scomparso. A coordinare le vigili del fuoco alzati in volo, anche i droni dotati di termocamera. Le ricerche portate avanti anche dai carabinieri proseguiranno nei prossimi giorni. Al momento nessuna pista sarebbe esclusa. Grazie.